Che senza cravatta sono? Allora, non pensiamo? Mi ricordo che stasera comprare una nuova matina Vabbè, lui sei precisato? Difficile, difficile Eh, ma quanto mi ha precisato? Siamo 4 Lui l'uno 6 Quanto? A prescindere che 2 per 4 fanno 8 Sai che va a fare? La mattareale Scusa Genda, da fare il minimo genda Genda? E che fate la macchina? Tutto reggisano i soldati? Vabbè, lui il suo capo è uguale al cinema e va accanto alla porta del cinema Ho capito, se posso fare tutto ciò Perché commissario Noi non arriveremo con la macchina di rosso come fanno tutti e neanche con la ricotta E come arriveremo? Noi arriveremo testamente come al suonare con la musica che fa pam 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 Eh, non c'è una buona commissario Eh, non c'è una buona commissario Camminero po 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 E commissario so 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 Cammi Commissario Catenella che è successo? È successo un omicidio Ma a dove? E tu dove? A Palermo A Tietro di Tampala di Mondello E qua? Il 18 luglio alle ore 21 Eh vabbè Padrello è tempo che finisco questa canzone e arrivo E come stai? Personale personalmente Domandò scusata Camminero po 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 A Tietro di Tampala di Mondello A Tietro 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 di Mondello Grazie per la visione!